Stasera parliamo di alta moda, parliamo di abiti davvero stupendi e non poteva naturalmente mancare con noi una stilista d'eccezione Francesca Paternò con la sua Via della Seta. Allora Francesca quando nasce la Via della Seta? Allora la Via della Seta nasce nel 2010 esattamente dopo aver avuto un'esperienza di 35 anni di lavoro nell'alta moda e nella sposa. Ho lavorato per così dire dietro le quinte, insomma facendo crescere veramente aziende sia all'estero e anche in Italia. Dopo ho deciso di creare questo atelier dove realizzo capi d'alta moda sempre la sposa e anche adesso un preto porter. La nuova, proprio nuova, nuova arrivata è da pochissimo vestiti da bimba che vendo in Russia. Molto belli veramente, molto particolari da migelle anche abitini un po' più, diciamo meno eleganti. E niente cosa dire, io sono sempre presa dal mio lavoro, emozionata perché io, ecco perché dico l'emozione. L'emozione vuol dire per me perché sento questo, perché sono delle creature. Ecco, quando realizzo i miei abiti e poi li guardo al lavoro finito, ultimato, naturalmente nascono da un designer, quindi da un disegno, dai bozzetti e poi vengono realizzati. Ho delle maestranze che mi seguono e dopodiché penso che siano proprio veramente delle creature. Ho dei progetti molto importanti anche perché avevo questo grandissimo desiderio che penso di realizzare e andare a Shanghai, quindi fare il lusso, per cui penso questo progetto sarà in autunno. Francesca, invece parliamo adesso un pochino degli abiti che hai realizzato per questo progetto. Ci parli un po' di questi stupendi abiti. Allora, per questo progetto di questa sera? Sì, innanzitutto riprendono un po' quello che sarà la mia collezione, quindi 900. La collezione che parte appunto dal prima del 900 fino al 1950-60. così. E quindi questa nuova collezione si chiama appunto 900, per questo che raggruppa. Allora ho portato questa novità, diciamo qui anche naturalmente con il vestito bianco-rosso e verde che raffigura quello che è la nostra bandiera e quindi il tricolore. Per cui quello rosso è un po' sugli anni 50. Invece quello che ho fatto verde è un, diciamo, è quello un po' che va sullo stile dei primi del 900. Lo abbiamo già accennato prima, ci può dire quali sono i suoi progetti futuri? Allora, il progetto futuro è quello più importante, sicuramente andare in Cina e quindi con il prodotto di lusso, dell'alta moda. Non so se Shanghai o Pechino, comunque in Cina in ogni caso. E questo è il progetto che ci aspetta, insomma, più importante. Allora Francesca, per tutti gli amici di HTO che volessero avere maggiori informazioni su tutto ciò che è realizzato e che continuerà a realizzare, come possono fare per contattarla? Allora sul sito web naturalmente. Allora www.francescapaterno.com Grazie mille. Prego. Grazie a te.